E' imponente l'operazione antipirateria frutto di indagini compiute in tutta Europa. Rischiano multe da 2.500 a 25.000 euro gli utenti della piattaforma Xtreme Codes, sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla pirateria televisiva. Al momento dello spegnimento vi erano 700.000 utenti collegati e un potenziale di 5 milioni di utenti totali, che con un abbonamento di soli 12 euro al mese riuscivano a guardare i programmi trasmessi dalle principali pay tv e dalle piattaforme a pagamento. Individueremo gli utenti italiani e verranno perseguiti, ha spiegato il colonnello Giovanni Reccia, comandante del nucleo speciale tutela della privacy e frode tecnologica. L'indagine, svolta in collaborazione con Eurojust, è a carico di 25 soggetti, tra cui due greci ideatori della piattaforma. Base dell'organizzazione in Italia è Napoli, con collegamenti in nove città italiane. Nell'ordinanza di sequestro preventivo di risorse web, conti correnti e carte di debito a carico degli indagati, il GIP di Napoli sottolinea che è stato rinvenuto un sofisticato sistema organizzato di frode finalizzato alla captazione e diffusione di prodotti destinati alla tv a pagamento, con notevole danno ai titolari dei diritti ed evidente frustrazione del libero mercato. Agli accertamenti hanno collaborato i tecnici del reparto antifrode di Sky.